Benvenuti a Storia di Casa, la rubrica di Radio Punto incentrata sui fatti storici di Legnano ed Intorni, a cura del dottor Massimo Gioni, storico e fondatore dell'Associazione Storia e di Rescaldina, perché Radio Punto è semplicemente ovunque. Nel Medioevo il fiume Lona era circondato da mulini. Legnano, città dei mulini. Sì, Legnano, per il passaggio dell'Olona e dei suoi rami derivati, era conosciuta come la terra dei mulini. Erano questi mulini fonte di grande ricchezza, in quanto chi controllava il mulino determinava la possibilità di macinare i raccolti di grano e di orzo e quindi l'approvvigionamento di cibo. Avevano una funzione estremamente strategica. Erano, quindi, controllati dalle famiglie legnanesi più in vista, cioè i Vismara, i Crivelli e i Lampugnani. Il più antico mulino è del 1043 e proprietario era Pietro Vismara. Nel 1594 si contano ben 16 mulini, che diventano addirittura 20 nel 1772 e i proprietari principali sono questa volta diventati i Cornaggia, marchesi di Castellanza. Con l'industrializzazione, alle ruote dei mulini si sostituiranno le turbine e le vecchie strutture verranno acquisite dai nuovi gruppi industriali locali, anche loro alla ricerca dell'energia dell'olona da sfruttare per le produzioni. Sono i gruppi Cantoni, Bernocchi e dell'Acqua, che manderanno in pensione definitivamente i vecchi e poetici mulini smantellandoli.